Noi siamo un gruppo di studenti dell'Istituto Tecnico-Tecnologico Fauser di Novara. Il nostro progetto consiste nell'affrontare una situazione reale, ovvero manipolare degli oggetti in base alla loro forma e posizione su un piano. Sia quindi un sistema flessibile e efficace. Bilanciando quindi costi e flessibilità, abbiamo scelto di utilizzare una telecamera fissa sull'area di lavoro che permettesse la localizzazione e l'identificazione dei vari oggetti in base a un marker applicato su questi per poi permettere al braccio meccanico di andare a prenderli ovunque essi siano per spostarli nella relativa zona di appartenenza. Questo chiaramente è possibile con un software di controllo che vi mostreremo più nel dettaglio nella prossima clip. Allora, questo è il software di controllo del braccio. Qua permette di vedere, attraverso una viewport, quello che vede il robot. Quindi se noi schiacciamo su process, partendo anche da una serie di parametri che noi mettiamo, lui riesce a individuare le varie forme e i loro centri. A quel punto genera anche una serie di comandi che poi vengono compiati e dicono al robot come muoversi per prendere i vari oggetti e metterli nel lo software relativo. A quel punto genera anche una serie di caratteristiche di caratteristiche di caratteristiche di caratteristiche di caratteristiche di caratteristiche. Questo progetto ci ha aiutato a riunirci meglio in un gruppo e a mettere in pratica le nostre abilità. Ora vi salutiamo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.